Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video ASMR Oggi, oggi, oggi cercherò di rilassarvi con un po' di tapping e un po' di triggers, visual triggers Cominciamo subito con il video Rilassati, rilassati, rilassati Rilassati, rilassati Rilassati, rilassati Cic, 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 tic tic Sucka 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 Sicca Sì 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 Rilassati 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 Sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Bene ragazzi per oggi è tutto E spero che il video vi sia piaciuto E ci vediamo nel prossimo video